Ciao a tutti ragazzi E finalmente Mi è arrivato, finalmente si Eccolo qua L'iPhone 5 Ci sono stati vari problemi Problemi? Problemi Beh, insomma Avevo ordinato fino agosto, prima di settembre Ed è da mesi che mi dicono Che mi arriva tra una settimana, tra due settimane Tra due giorni e tutta roba così Ma secondo me non l'hanno mai ordinato O appena li arrivavano li vendevano Quindi l'ho prenotato tre giorni fa dalla foto Mi è arrivato praticamente il terzo giorno Oggi, stamattina L'ho preso e mi è arrivato Ho preso anche una testa, vabbè, di iTunes Per caricare questa l'iPod Per vedere anche le differenze Vabbè, andiamo ad aprire Allora Una delle sette, non lo so Una delle meraviglie della tecnologia È questo Eccolo qua Allora È sottile, molto più sottile rispetto al 4 S e al 4 gli altri, diciamo L'attacco è cambiato Devo metterci, sì, vabbè, la SIM È da 64GB Ok Ok, poi qui abbiamo La mia tessera Ok, qua dentro le stesse cose che si trovano anche nella custodia dell'iPod Quindi il caricabatterie L'adattatore E le cuffie Sotto ci saranno i bigliettini Con scritto hello, ciao, made in California Roba varia Eccolo qua Designed by Apple in California Qui ci saranno le istruzioni, i bigliettini Complessivamente troviamo il telefono Che è la parte più importante Eccolo qua Ricordiamo Ok Qua dentro ci sono cose supplementari, diciamo Con la scatola nero 64GB che è fantastico Veramente ci posso mettere qualsiasi cosa E prendiamo un secondo l'iPod Con il cavo ancora attaccato alle cuffie Ok, stacchiamo Allora, vediamo un po' L'iPod comunque è molto più sottile rispetto all'iPhone Sono praticamente identici Perché hanno tutte e due 4 pollici La nuova scherma La nuova grafica E insomma Una cosa un po' così Va bene Mettiamo via questo Io vi ringrazio ragazzi E spero che vi piaccia Il mio canale Il nuovo canale che abbiamo creato anche Assieme ad altri YouTubers Che metterò in descrizione Comunque E io vi consiglio di comprare questo iPhone Perché è fantastico Qualsiasi cellulare voi avete Voi Non importa Voi sacrificatevi e prendetevi questo Perché È una meraviglia Ebbene ragazzi Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Sarà un gameplay Quindi Ciao a tutti ragazzi E ci vediamo alla prossima